Ti presentiamo Apps Around Pro, il rivoluzionario attrezzo di fitness con tecnologia EMS per un'azione su tutto il tronco, in modo da perdere centimetri nel girovita più in fretta che mai. Ti garantiamo che puoi perdere più di 4 kg in appena due settimane. Con Apps Around Pro ti basteranno solo 10 minuti al giorno. Lo puoi indossare sotto i vestiti e dedicarti ad altro mentre ti alleni.